Amici sportivi, appassionati di calcio, altra puntata di Sport in Casa in compagnia ancora di Federico Formisano. Buonasera Federico, editorialista e titolare di calciovicentino.it. Con Federico Formisano andiamo a parlare a 360 gradi di tanti argomenti che riguardano il calcio dilettantistico di casa nostra. Partiamo da una notizia che ci ha dato tempo fa il vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti del Veneto, Patrick Piton, ma era già uscito il comunicato della federazione, anche l'anno prossimo stesso format, quindi campionati a 14 squadre per poi tecnicamente andare a regime e tornare alle 16 squadre fra due anni. Scelta giusta quella di mantenere il format a 14 oppure si poteva magari cambiare già dall'anno prossimo? Beh, cambiare e portare a 16 gironi avrebbe voluto dire effettuare un sacco di retrocessioni per potersi ristrutturare con questo meccanismo. Quindi il passaggio dovrà essere graduale, ma questo lo avevamo in qualche modo previsto. Cioè una volta che si è presa questa decisione, per due anni non sono state fatte retrocessioni. Si è andato avanti con le promozioni comunque, anche con campionati incompleti, e quindi è arrivata doverosa questa decisione di mantenere questo format a 14. Non credo che ci fossero alternative. Per me è un fatto scontato. Sai cosa? Che comunque, secondo me, pensare a dei play-off e mantenere i play-off, quello sì. Perché adesso c'è tanto equilibrio nei campionati, ma la spinta del play-off rappresenta comunque sempre una cosa importante. Anche se il play-off alla fine potrebbe garantire solo di essere inseriti in una classifica di ripescaggi. In una graduatoria. In una graduatoria di ripescaggi. Però comunque mantenerli. Perché adesso, per esempio, ci sono delle squadre che stanno mollando, no? Mancano cinque partite in promozione prima e seconda categoria. E se molli a cinque partite dalla fine potresti diventare condizionante per altre squadre. Perché magari devono salvarsi e hanno bisogno di quei punti. Assolutamente. Un commento veloce anche sul protocollo. Noi ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Il protocollo che con l'ultima modifica sarà in vigore fino alla fine del mese di aprile. E sostanzialmente si ritorna a dare la possibilità di allenarsi, di giocare anche a coloro che non sono in possesso del super green pass. Definiamolo così. Eccezione fatta per l'accesso agli spogliatoi e alle docce. Anche qui un passo verso la normalità. Arrivato a fine stagione. Un tuo commento su questo. E poi la speranza chiaramente che dall'anno prossimo si possa ripartire senza restrizioni normative o altre misure cautelari. Guarda, io faccio semplicemente questo tipo di ragionamento. Se a gennaio ci avessero detto che saremmo andati avanti tre mesi con questo numero di partite rinviate, pochissime, ci saremmo stupiti di questo. Quindi credo che in realtà il calcio abbia ritrovato una sua dimensione, stia giocando con una certa regolarità. I protocolli ci volevano, erano necessari e indispensabili, ma adesso dobbiamo andare verso una fase di semplificazione ulteriore e verso possibilmente una fase di liberazione, diciamo così, da questa situazione difficile che abbiamo vissuto. Federico, correggimi se non hai avuto la stessa sensazione, ma questi due anni e mezzo di pandemia con tutte le problematiche, perché noi parliamo di calcio, ma c'è tutto il mondo che gira attorno, insomma ci sono dei problemi in ambito scolastico, lavorativo, sociale, sanitario e quant'altro. Insomma tutto questo contorno ha creato un po' di cattiveria nel mondo dello sport, parlo di tifosi, parlo anche dell'atteggiamento in campo, soprattutto anche dei più piccoli, si avvertono veramente segnali di insofferenza, di anche violenza verbale, insomma siamo diventati più cattivi. Io vi auguro di no, però in realtà è un po' così e le segnalazioni che ci arrivano sono queste, ne ho pubblicate anche di recente segnalazioni di società che dicono vediamo ragazzini di 12-13 anni scatenati contro gli arbitri. Poi sai c'è anche un altro risvolto di cui bisogna tenere conto, c'è stata una fase di abbandono nel mondo arbitrale e quindi questo ha provocato il fatto che vengono utilizzati anche nelle categorie, si parte già dalla terza ma anche in seconda categoria arbitri molto molto giovani e si corre il rischio che se le società non controllano gli impeti di qualche tifoso un po' esasperato ci sarà un'ulteriore fase di abbandono e senza arbitri come può andare avanti il mondo del calcio? Cioè dobbiamo porci questa domanda, è una domanda che è quasi indispensabile. C'è stato un periodo in cui i vertici arbitrali hanno fatto presente che si poteva arrivare al punto di non mandare più i guardialine in promozione, quindi praticamente l'arbitro unico in promozione, cosa che sarebbe inusuale rispetto alla tradizione, rispetto al passato. Quindi questo problema arbitrale c'è anche perché c'è un incremento della violenza verbale. Dobbiamo fare un grande appello alle società perché lavorino molto soprattutto sui giovani per superare questa fase che d'altra parte è una fase di tutta la società perché queste bande di giovani che vanno ad aggredire gli autisti dei pullman piuttosto che le persone anziane al parco giochi le vediamo tutti i giorni. Per non parlare di quello che si legge sui social e quant'altro. Ed è un fatto che deve preoccupare insomma. Federico, al di là della violenza che è un aspetto da stigmatizzare e hai fatto benissimo a lanciare questo tipo di messaggio, ne parleremo ancora, torneremo a parlarne nei prossimi giorni. Che calcio hai visto quest'anno, la domenica, insomma sui campi, al di là della categoria? Quando lo chiediamo ai nostri ospiti diciamo che il parere quasi unanime è rispetto a dieci anni fa il tasso tecnico è sceso, i campionati sono meno competitivi di dieci anni fa. Ma è davvero così? Ma ecco, se guardo l'ultima partita che ho visto io, ti posso dire che quella era una partita che si poteva giocare tranquillamente anche in prima categoria. Come ritmi, come velocità, come esecuzione, come controllo di palla, come tatticismi. Stella Azzurra-Sant'Anna-Arsenal-Cusinati. La domenica prima avevo visto un'altra partita, sempre di seconda categoria, in cui c'era da mettersi le mani nei capelli. Non nominano le squadre ma erano in fondo alla classifica. E il livello mi sembrava decisamente basso. Quindi probabilmente c'è una selezione naturale, nel senso che chi lavora per vincere il campionato fa anche determinati sacrifici e prepara squadre abbastanza valide, che fanno anche i tre allenamenti alla settimana. Mentre le altre squadre generalmente vivacchiano e il livello tecnico è abbastanza abbassato. Poi sai, il fatto di portare tre gironi di eccellenza, cinque gironi di promozione, ha significato sicuramente sollevare dal basso molte squadre, con dei risultati che si vengono. Era pronta, assolutamente. Guarda, io ti faccio un esempio solo. C'è una squadra di prima categoria che negli ultimi tre campionati è sempre arrivata ultima, senza retrocedere, e retrocederà quest'anno. Quest'anno ha fatto tre punti. Cioè tu puoi immaginare il livello tecnico che c'è qui. Certo, assolutamente. Che calciomercato sarà quello che ci aspetta quest'estate? Perché sono due anni che anche noi ne parliamo, facciamo un certo tipo di previsione che poi viene puntualmente smentita dai fatti. Il primo anno di pandemia, si diceva, ci sarà un forte contenimento dei trasferimenti, una chiamata alla responsabilità anche dei ragazzi, dei calciatori che non dovranno e non potranno più chiedere un certo tipo di rimborso. Invece quell'anno boom di tesseramenti, di trasferimenti. L'estate scorsa più o meno è andata nella stessa maniera. Quest'anno? Ma io non faccio previsioni. Non faccio previsioni ma credo di essere d'accordo con te, nel senso che siamo pronti ad essere stupiti dalla situazione. Perché effettivamente nel mondo del calcio c'è questa voglia di cambiare, di adeguare le squadre, di fare dei sacrifici e secondo me ci sarà ancora un mercato scoppiettante. Un mercato scoppiettante anche perché sono tanti quelli che, tanti insomma, ci sono stati dei numeri importanti per quello che riguarda gli abbandoni, quelli che hanno smesso di giocare a calcio in questi ultimi due anni. Questo è l'anno, guardando un po' anche i dati anagrafici, un po' complessivi e nel panorama calcistico vicentino e bassanese, è un anno in cui ci sono tanti grandi vecchi, definiamoli così, che potrebbero essere arrivati al capolineo, al momento di appendere le scarpette al chiodo. È davvero così? O si va avanti? Io ho trovato la settimana scorsa un giocatore del 67, quindi siamo veramente a livelli incredibili. Non lo so, qualcuno annuncia il ritiro, però poi mi sorprendo perché vedo che magari dopo che ha annunciato il ritiro lo rivediamo in campo un'altra volta. Faccio un esempio, guarda, Zanin, Zanin del Tezze sul Brenta, classe 1977, quindi ha 45 anni, lui faceva il vice allenatore, però spesso e volentieri il mister lo chiama e lo mette in panchina come riserva e poi magari lo fa entrare. Ecco, quindi insomma un esempio che vale un po' per tutto quello che stiamo dicendo. 30 secondi, veramente 30 secondi per chiudere, due parole sui procuratori sportivi, stanno spuntando un po' come i funghi, si dice così, perché sono davvero tantissime le figure che prendono in carico, giocatori anche di seconda categoria, prima categoria, insomma questo fenomeno come lo giudichi? Cacciamo i mercanti dal tempio, cioè io credo che sia un fenomeno deteriore, nei dilettanti dovrebbe essere completamente vietato l'appoggio dei procuratori, togliamoli. Cacciamo, allora con questa frase significativa, insomma, evocativa di Federico Formisano, cacciamo i mercanti dal tempio. Si chiude questa puntata di Sport in Casa, ma ritroveremo Federico Formisano nel corso di questa lunga estate scoppiettante, l'abbiamo definita, commenteremo chissà quali scenari di calcio mercato e non solo. Io ringrazio il nostro ospite per essere stato in nostra compagnia, grazie Federico. Grazie a voi di avermi invitato. L'appuntamento con tutti voi, oramai lo sapete, dal lunedì al sabato, poco prima delle 20, sempre con Sport in Casa su Rete Veneta. Grazie.